Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse, ho creato una nuova poesia dal titolo I ricordi della nonna, spero dopo la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia, ho creato questa poesia dal titolo I ricordi della nonna perché la mia cara nonna si alzava alle 4 di mattina per impastare il pane e per i figli che aveva mostrava un impegno forte, solenne e immemore. Si svegliava presto perché per lavare la roba c'era molto da fare e era una nonna che curava molto la famiglia. I soldi non bastavano ma lei era fiera dei figli che l'amavano e del suo amore eterno per la famiglia. Una donna forte di eterno splendore che ha insegnato a noi nipoti tante cose. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo I ricordi della nonna. Si alzava alle 4 per impastare il pane e per i suoi figli l'impegno era forte, solenne e immane. Si svegliava presto per lavare anche la roba e era una nonna da premio che curava la famiglia. I soldi non bastavano mai ma lei era fiera dei figli che l'amavano e il suo animo li rincuorava. I ricordi della nonna li porterò nel cuore quelli di una donna colma di antico splendore. Grazie e spero la condividerete a tutti su WhatsApp. Arrivederci.